Salve a tutti, in questo video voglio parlare di quello che è il conflitto, di quello che considero io il conflitto e i pregi e i difetti di questa attività umana. Molti di noi hanno il pregiudizio, secondo me, che il conflitto sia qualcosa di soltanto negativo, cioè il fatto di avere dei conflitti con un'altra persona, quindi avere una battaglia, una polemica, una disputa e quant'altro, è vista come qualcosa di negativo, che porta solo conseguenze negative, come violenza, ingiurie, mille altre cose, solo cose negative. Questo vale ovviamente per le persone, per i conflitti da gruppi, i conflitti tra nazioni e così via, i conflitti tra società imprenditoriali, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, io questo non credo che invece il conflitto sia da vedere solo in senso negativo. Certo, ha dei risvolti negativi il conflitto, la guerra è un tipo di conflitto, però il conflitto deve essere visto anche in un senso positivo. Perché? Perché se noi guardiamo il conflitto, per quello che è storicamente, ma anche nel progresso della storia, che cosa hanno portato i vari conflitti che si sono creati, e non parlo solo di guerra, ma in parte forse anche guerra, ma in conflitti in senso generale, o anche quello che sono i conflitti tra persone, quindi le dispute, le discussioni, le confutazioni reciproche, eccetera. Che cosa hanno fatto questi conflitti? Hanno permesso di confrontare diverse istanze, che poi tendenzialmente sono giunte a una sintesi che ha portato al primeggiare di una delle due istanze. Non dico che sempre l'istanza che primeggia sia la migliore, anzi, non è detto. Però tendenzialmente il cammino è questo, perché in un conflitto, per esempio, facciamo l'esempio di due società imprenditoriali, che producono due prodotti simili, due ditti che producono automobili, tendenzialmente quella che produce l'automobile a minor costo e di miglior qualità dovrebbe restare sul mercato a scapito dell'altra. E se l'altra impresa vuole restare sul mercato, sarà portata, sarà costretta a migliorare sempre il suo prodotto di modo da poterlo mantenere sul mercato, migliorandolo appunto come sta facendo la sua concorrente. Questo vale nel mondo economico, vale nella natura, voglio dire, perché in natura una certa lotta continua è quella che porta poi alla differenziazione, all'evoluzione, diciamo, delle specie. Se noi guardiamo le specie, ci sono delle specie in cui la pressione selettiva è stata molto ridotta per varie motivazioni, perché sono spariti i predatori, oppure perché comunque hanno avuto la possibilità di vivere in un ambiente abbastanza favorente, queste specie tendono ad essere stabili da milioni di anni addirittura. Ci sono quelle che si chiamano i fossili viventi, che sono specie che sono ferme da moltissimo tempo. Questo non dico che sia essenzialmente qualcosa di negativo, dico solo che appunto l'assenza di un conflitto porta all'immobilismo. Nelle società umane questo è verissimo, anche nelle persone, nelle società umane questo è verissimo. Se noi guardiamo la storia anche recente e guardiamo per esempio l'Italia dei Comuni, in cui c'era una forte conflittualità tra varie quasi nazioni o micronazioni, questo ha portato comunque a un'estraordinaria attivismo economico, culturale, politico anche. La stessa conflittualità europea che avvenne proprio durante probabilmente quello che era il periodo dell'Italia dei Comuni, tant'è che l'Italia divenne un teatro di battaglia di molte altre nazioni europee, la Francia, la Spagna, eccetera. È stata poi una palestra, un modo perché le nazioni europee diventassero poi a livello mondiale più performanti da un punto di vista forse anche imperialistico, però ha dato loro le armi e le capacità tecnologiche di poter primeggiare a livello militare e economico sul mondo. La stessa Roma, se vogliamo andare un po' più indietro, divenne in parte quello che era, cioè una forte potenza sicuramente del Mediterraneo a livello mondiale a quel tempo, perché trovò sul suo percorso vari ostacoli che la formarono, che la spronarono a migliorarsi. Roma non sarebbe mai stata Roma se non ci fosse stata una cartagine. Quindi, adesso senza sprecarmi in ulteriori esempi, il conflitto è, per dirla anche in un modo un po' marxista, quello sprone che porta, mettendo in conflitto delle diverse stanze, produce il cambiamento che genera la storia. Adesso è un po' stirata come citazione, però in questo senso va vista in maniera positiva. Del resto anche la sociologia moderna tende a vedere il conflitto come tendenzialmente inevitabile, non come magari una sociologia di qualche anno fa, forse di qualche secolo fa, che vedeva il conflitto come qualcosa da contenere, da limitare, da cancellare. Invece oggi tendiamo a vedere il conflitto, credo, più che altro come un'occasione di cambiamento, di rinnovamento, di progresso, qualunque cosa voglia dire progresso. E questo vale anche per le persone, perché è nel conflitto con gli altri che si affina anche la propria identità, le proprie capacità o la propria conoscenza. C'era un filosofo, non ricordo chi fosse, che diceva che in una disputa qualunque, la parte più fortunata di una disputa è quella che ha torto, perché viene via dalla disputa avendo imparato qualcosa, mentre chi ha ragione viene via dalla disputa non avendo imparato nulla. Ecco, questa ovviamente è una provocazione, però dovrebbe farci riflettere. Questo per dire che cosa? Che il conflitto non deve essere visto solo in senso negativo. Può portare a risultati negativi, ovviamente anche su questo si potrebbe discutere, quando diciamo che non viene sviluppato in una maniera culturale. Ecco, in questo senso qui sì, forse. Però, in generale, io credo che debba essere visto anche in un senso di sprone al progresso, che impedisce l'immobilismo, e con l'immobilismo in natura, come in società, come anche nelle persone, nella singola persona, quindi a livello psicologico individuale, si ha una stagnazione che raramente porta a qualcosa di nuovo e a qualcosa di positivo. Questa è la mia riflessione, vi ringrazio per avermi ascoltato. Come vedete mi trovo in una splendida piazza di una città italiana del Cinquecento, il momento più florido della storia, ma per qualcuno è stato il momento più florido degli ultimi mille anni per l'Italia, e questo non voglio dirlo a tutti i costi, però sicuramente il periodo dei comuni è stato un ottimo momento storico-culturale per l'Italia, fino a che poi, ovviamente, non sono arrivati i grandi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo nel nostro paese, e noi non siamo riusciti ad appollirci, sì. Vi ringrazio per avermi ascoltato ancora, e alla prossima.